Piano, sono sopra di noi. 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 Piano, sono... 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 Grazie. Qui i caduti sono più presenti che mai. Andiamo avanti. Speriamo che là fuori sia rimasto qualcosa. Questo era un vecchio cosmodromo. Partivano navi per ogni dove. Deve esserci qualcosa che possiamo pilotare. Oh no, arriva qualcosa. Navi dei caduti, così vicine alla superficie. Dobbiamo riuscire a superarle. Alla prossima. 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 Alla prossima.